Ok, due! Allora, come già detto che non si che me dio ... 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 per le gambe ah poi c'è anche no, stira, gira, gira perché poi provo di male sul video, provo di sporco voi non me lo fate così? eh no